Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella panna e arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono panna fresca per dolci, succo d'arancia, uova, zucchero, sale, scorza d'arancia, farina di tipo 00, fecola di patate e lievito per dolci vanigliato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte, senza lavare il boccale, posizionare la farfalla, mettere 30 grammi di zucchero, che abbiamo preso da quello che abbiamo polverizzato. Aggiungere la panna che deve essere messa per 45 minuti in congelatore e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. Fermiamo il bimbi perché la panna è ben montata. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale con la farfalla inserita, mettere il resto dello zucchero, le uova e un pizzico di sale. e ad azionare il bimbi per 8 minuti a velocità 4, senza misurino. Aggiungere il succo d'arancia ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 2. Aggiungere la farina, la fecola ed il lievito. Chiudere con il coperchio ed il misurino e azionare il bimbi per 1 minuto a velocità 4. Rimuovere la farfalla e versare il composto nella ciotola con la panna. ed amalgamare delicatamente. Trasferire in uno stampo a ciambella da 24 cm, ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella, panna e arancia. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!